In questa situazione, soprattutto nei numeri, devo dire Anteia ha disporato un'ottima partita, ha messo segno un due gol, ha avuto tantissimi migliori in campo, quasi tutti. Andiamo subito da Gigi Di Biagio per un... In questa situazione, soprattutto nei numeri, devo dire Anteia ha disporato un'ottima partita, ha messo segno un due gol, ha avuto tantissimi migliori in campo, quasi tutti. Andiamo subito da Gigi Di Biagio per un...